prima di cominciare questo episodio voglio farvi vedere la situazione dovete dire addio ai lenti si sono fulminati quasi tutti guardate la stavo staccando perché non funzionano più ma si sono rotto praticamente i contatti non lo so questa è la situazione tutti i neri tutti i neri guardate tutti i neri a parte queste che sono completamente bruciati io non so come sia potuto succedere una cosa del genere però ci vediamo all'episodio ebbene ragazzi eccoci qua oggi alleneremo i dorsali con le vecchie luci però perché i led ovviamente si sono bruciati non potevano resistere ancora no dovevano proprio bruciarsi e va bene ragazzi non fa niente noi non ci sentiamo nemmeno senza led possiamo allenarci tranquillamente con le luci standard gialle vabbè fate finta di niente ragazzi se il video si vede giallo siamo simpson comunque stavo dicendo oggi alleneremo dorsali e spalle cominceremo con il primo esercizio che è la Lat Machine faremo come sempre tre serie per uno con 50 kg e la quarta serie scaldiamo 10 kg e ne facciamo per max 10 kg e la quarta serie 15,0 kg e la quarta serie Grazie a tutti Come secondo esercizio andiamo a fare l'art machine triangolo 4 serie scusate non 3 ho fatto il segno del 3 però vabbè 4 serie per 10 ripetizioni così Peso 44 kg Prossimo esercizio abbiamo rematore singolo capo basso 4 serie per 10 ripetizioni sempre 8-10 ripetizioni così con 16 kg 5 serie per 10 ripetizioni così con 16 kg come prossimo esercizio andremo a fare il quarto esercizio sarebbe anche l'ultimo il pull e i basso ragazzi con 44 kg anche lo faremo metterei 48 kg ragazzi per il pull e i basso ritorniamo come prima 4 serie per 8 ripetizioni ora passeremo alle spalle come primo esercizio faremo la shoulder press con manubri 20 kg per lato 1-2 ripetizioni massimo per 2 serie scusate la terza serie meno 10 kg a sfinimento scusate la terza serie secondo esercizio alzate frontale su panca con bilanciere 12 kg e Prossimo esercizio, alzate laterali, faremo un braccio per volta con 12 kg, tutto questo per 10 ripetizioni a lato. Prossimo esercizio, posteriori, 4 serie per lato. 3 serie per 10-12 ripetizioni, un braccio per volta questa volta, faremo 10 kg a braccio, così per abituarci non lo so, io adesso metto un peso casuale, faremo 3 serie per 10-12 a braccio, cominciamo. 2 serie per lato. 5 serie per lato. 5 serie per lato. 6 serie per lato. Grazie. Grazie. Grazie.